Ciao a tutti amici di Balcone Verde e benvenuti a questa nuova puntata. Questo che vedete e anche questo sono due piccoli semi di olmo che sono stati messi qualche settimana fa in questo vaso composto da terriccio, autoprodotto, e sono già germogliati perché l'olmo emette, come ho detto in altri video, i semi in primavera da marzo a maggio e una volta raccolti vanno subito seminati. Dopo circa 5-10 giorni nascono le prime piantine come queste che vedete. Quindi se voi volete riprodurre questo albero a costo zero basta prendere dal mese di marzo al mese di maggio questi semi, trovate anche sul mio canale un video dove vi faccio vedere proprio il momento della semina e aspettate poi dopo semplicemente che la natura faccia il suo corso. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice all'insù e condividetelo sui social. Ciao, alla prossima! Ciao!